ah che bello assaporare un bel giorno in libertà andando a correre oggi voglio fare qualcosa di nuovo andare in un altro comune e fare una cosa pericolosissima per farlo dovrò percorrere questa strada sarà un percorso molto breve entro poco saremo in un altro comune ok manca poco dobbiamo solo attraversare questo fiume cosa potrà mai succedere di male sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di anor fuoco oscuro non ti servirà a nulla fiamma di udon non vuoi passare a